Multi-motion bench L'unico attrezzo veramente innovativo per allenare in assoluta sicurezza quattro diversi esercizi, nei quali è notevolmente coinvolto il rachide lombare. L'atleta assume la posizione fisiologica con l'appoggio sull'imbottitura, ma senza essere sostenuto passivamente, situazione che potrebbe essere più pericolosa del non avere alcuna assistenza. Bent over row La posizione fisiologica del corpo deve essere mantenuta anche se l'appoggio del torace aiuta a non caricare eccessivamente la schiena. Piedi in appoggio stabile, ginocchia leggermente flesse. Staccato il bilanciere, eseguire l'esercizio portando l'attrezzo alla cintura. Tirate esplosiva, ritorno lento e controllato. Alzate laterali a 90 gradi. Busto in appoggio, braccia intrarotate, tenute a 90 gradi rispetto al busto. I gomiti sono leggermente flessi e rimangono bloccati per l'intero movimento. Per una corretta esecuzione, occorre concentrarsi proprio sui gomiti, che devono sollevarsi più in alto possibile. Spider Curl Con il torace in appoggio, decontrarre e abbassare le spalle, mentre le braccia si trovano in posizione verticale. Flettere l'avambraccio e riabbassare in pieno controllo. Dead Lift Staccare il bilanciere dai ganci arretrando leggermente. L'esercizio risulta corretto quando la schiena rimane eretta per tutta la durata del movimento. Flettersi sulle gambe in piena accosciata, risollevarsi con decisione tirando indietro il corpo per mantenere il carico entro i limiti del baricentro.